Non abituatevi a guardare la scaletta perché tanto quando avete l'avversario davanti non dovete né guardarlo in faccia né guardargli i piedi L'istinto molte volte quando fai questo esercizio è proprio quello di guardare i piedi Assolutamente sì, questo bisogna anche svilupparlo, ovvero la vista periferica Perché se io sto guardando te, tante volte gli avversari cambiano guardia, da guardia normale vanno in postazione mancina Tu potresti non accorgertene, come tanti non se ne accorgono Io per fortuna ho avuto la possibilità di affrontare tanti pugili mancini che cambiavano guardia Quindi che arrivano dalla kick, arrivano dalla tie È la merda cazzo, ti cambia tutto il pugiluppo Sì, assolutamente sì